se mi sentite un po' giù perchè raga sono veramente scala raga sto morendo forse raga oggi proviamo Stumbleguys su Roblox ufficialmente raga domani raga usciranno tantissimi video e non sarà così giù come oggi di sicuro perchè raga adesso è seriamente ma seriamente tardi raga madonna ma se fosse realmente così Stumbleguys sarebbe veramente farebbe veramente schifo io non ci avrei mai giocato raga completiamo qui ma è impossibile cosa sta succedendo ma raga ma è impossibile cos'è è difficile di quello vero oh oh ce la faccio ce la fatta è facilissimo ok corri corri no raga è impossibile ma raga ma non ho le skin di Stumbleguys non vale io voglio voglio avere le skin se no non non gioco raga non gioco raga io torno indietro perchè devo avere le skin voglio avere la skin speciale non l'hanno ancora giunta ma sono bravissimo sì è questo no non voglio questo vabbè gioco a Stumbleguys su Roblox questo video raga deve arrivare almeno a 20 like perchè ragazzi se arriviamo a 20 like ascoltate ragazzi facciamo altri video su Roblox ma video speciali su Roblox facciamo i Rainbow Friends e ragazzi rullo di tamburi creiamo noi una mappa insieme a voi a vostra gente raga e non sto scherzando sarete voi creator ragazzi però commentate è perchè oh mio dio sono salito a super manco su Stumbleguys oh che trick vabbè vabbè che trick oh questa è piazza ma cosa ma raga what sono cascata lì what what che cacchio raga avete visto che roba è successa oh my god mi sono dovuto azzerare vabbè qui c'è il pantano palpitoso vabbè raga finiamo forse la jungle oh aiuto aiuto finiamo facciamo la jungle roll un'altra e dopo dopo faremo la parte 2 raga se arriviamo a 20 like perché raga bisogna ricordarvi che almeno 20 like di incoraggiamento noi in questo tipo di video li vogliamo perché cioè raga guardate che ho già fatto ben 7 video tutti raga ovviamente io raga non è molto facile io mi arrendo mi arrendo mi arrendo